l'orso venditore de fumo un orso se vantava con un gatto per me la reggia è come casa mia e re leone me va un bene matto me tratta tu per tu prova ne sia che a mezzogiorno c'ho l'appuntamento se mi aspetti un momento vado e torno l'orso infatti anno su ma il re leone appena se lo vide comparì vortò la schiena arzò la coda e praffete e l'udienza finì e mbe gli chiese il gatto c'hai discorso che t'ha detto racconta com'è nata non me lo domandà rispose l'orso se tratta di una cosa delicata